Nel 2021 si celebrano i 75 anni dal suffragio universale del 1946. In occasione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, il Consiglio regionale del Piemonte organizza una serie di appuntamenti per riflettere su storiche conquiste come il diritto di voto e sulla strada che resta da percorrere per un pieno riconoscimento della parità di genere. Proprio al voto del 1946 è dedicata la mostra fotografica che fino al 16 marzo sarà ospitata nelle vetrine dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale in via Arsenale 14 a Torino. La rassegna, realizzata dalla città metropolitana, espone scatti e immagini storiche che provengono dall'archivio della Gazzetta del Popolo e dedica un focus particolare al voto amministrativo a Torino dell'aprile 1946. Lunedì 8 marzo, poi a partire dalle 15, sui canali Facebook e YouTube del Consiglio regionale sarà pubblicata la registrazione del convegno Uomini contro la violenza, organizzato dalla consulta femminile regionale in collaborazione con l'associazione Mater sui primi risultati dell'applicazione della legge 69-19, il codice rosso per la difesa delle donne vittime di violenze e maltrattamenti. Vi sono due parole che possono fare la differenza e sono rapidità e prevenzione. Rapidità è il vero modo ordre perché il percorso della violenza di genere in tutte le sue eccezioni possa essere davvero interrotto. Prevenzione è un'altra parola risolutiva, sia nella sua eccezione di prevenzione ambientale e culturale, sia nella sua eccezione di anticipata tutela delle donne. Sempre nell'ambito della prevenzione del contrasto alla violenza, prosegue l'attività del portale web sosdonna.it. Tra le tante iniziative sta ottenendo un notevole riscontro fra i giovani dell'università e delle scuole superiori astigiane, dove il progetto è stato avviato ormai due anni fa, il questionario Ti rispetto, con oltre 5.000 compilazioni sul tema della violenza psicologica.